Cordoglio nel mondo del cinema per l'attrice britannica Angela Lansbury, morta all'età di 96 anni. Considerata una leggenda di Hollywood, Lansbury ha lavorato in tanti generi, dai thriller a dare voce ai cartoni animati. Prima di compiere 21 anni, ebbe due nomination agli Academy Award per la sua interpretazione di Gaslight e per il ritratto di Dorian Gray. Ha guadagnato fama internazionale come protagonista della serie La Signora in Giallo. E' stata una grande attivista per la lotta all'AIDS negli anni 80 e 90. Lansbury ebbe successo in qualunque settore dello spettacolo e in ruoli anche molto diversi.